C'è uno in office eh? Vai! Entrando? No! Porco Dio sono morto eh! Su... in fondo! La corridoia, porco Dio! Porco! No! Passarebbe! Si! 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 Ci sono uno! Ci sono più me o ci sono? No! A me si provo a scav, a me si dai! Io non ci sono uno sulla passerella ma sulle scale! Sono... Al discredario ancora! Lo so! Lo faccio? E tu! Vai! Vai! Ci sono delle persone che... Ci sono delle persone che... Mi parla di potere... ... ... ... ... ... ... ... ... c'è il cibo avevi via Smarget Kid? non me la ricordo ok ok c'è il cibo è difficile c'è il cibo c'è il cibo Che cazzo!